Fratelli carissimi, dopo aver celebrato e contemplato il Sacratissimo Cuore del Signore oggi la Chiesa ci invita a celebrare, a fare memoria e a contemplare il Cuore della Madre il Cuore Immacolato di Maria che meraviglia, che gioia, che consolazione poter oggi contemplare il Cuore di nostra Madre un Cuore senza peccato, un Cuore quindi che senza alcun limite, segnato dalla carne, dalla gelosia un Cuore che non ha nessuna pretesa su di noi un Cuore che non desidera farci a propria immagine e somiglianza come anche le madri migliori normalmente tendono a fare la Vergine Maria è l'umile di Nazareth che ci ama come ha amato il suo figlio proteggendoci, nutrendoci, formandoci e soprattutto accompagnandoci alla croce a compiere la volontà del Padre perché esattamente come il Cuore Immacolato di Maria all'annuncio dell'Angelo ha accolto la volontà di Dio, così anche noi accolti nel Cuore di Maria accolti nel Cuore della Chiesa di cui Maria è Madre e Immagine siamo a poco a poco trasformati, trasfigurati, rigenerati ascoltando la Parola di Dio, accostandoci ai Sacramenti cioè attingendo al Cuore di Maria e al Cuore del Figlio uniti indissolubilmente per il nostro bene, per la nostra salvezza anche il nostro Cuore è trasformato in un Cuore come il Cuore di Maria dove custodire e meditare istante dopo istante le parole di Dio perché a poco a poco illuminino gli eventi della nostra vita e ci diano la certezza incorruttibile della fede, la fede di Maria che tutto, ma proprio tutto, concorre al nostro bene accettando che anche il nostro Cuore, come quello di Maria debba sperimentare l'angoscia come quando ha smarrito Gesù e per tre giorni non riusciva a trovarlo sino a che nel Tempio lo ritrova e deve ascoltare parole in quel momento per lei oscure ma non sapete che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio dopo tutta l'angoscia provata nella ricerca del Suo Figlio la Vergine Maria riceve queste parole di Gesù come una secchiata d'acqua gelida eppure Maria custodisce queste parole che in quel momento non comprendeva nel Suo Cuore e noi nel Suo Cuore possiamo imparare a custodire tutto ciò che non capiamo accantonando la mormorazione, il giudizio, la ribellione ed entrando insieme a Maria e insieme al Suo Figlio nella volontà del Padre anche e soprattutto quando la volontà significa la croce bene, anche in quel momento possiamo accostarci fiduciosi al Cuore Immacolato di Maria come Suoi figli, come figli di Dio bene, anche in quel momento